Riprogrammare la mente subconscia, una guida passo passo. La vostra mente subconscia ha un potere immenso nel controllare le vostre esperienze di vita, dal tipo di cibo che mangiate alle azioni che fate ogni giorno, al livello di reddito che guadagnate e persino al modo in cui reagite alle situazioni di stress. Ogni aspetto è guidato dalle vostre convinzioni e interpretazioni subconsce. In breve, la vostra mente subconscia è come il pilota automatico di un aereo. È stata preprogrammata per seguire una rotta specifica e non si può deviare da quella rotta se prima non si cambiano le indicazioni programmate. Che cos'è la mente subconscia? Il subconscio è la parte della mente che opera al di sotto del normale livello di coscienza di veglia. In questo momento state usando principalmente la vostra mente cosciente per leggere queste parole e assorbirne il significato, ma al di sotto di questa concentrazione mentale, la vostra mente subconscia sta lavorando dietro le quinte, assorbendo o rifiutando informazioni basate su una percezione esistente del mondo che vi circonda. Questa percezione esistente ha iniziato a formarsi quando eravate piccoli. Con ogni esperienza, la mente subconscia assorbe informazioni come una spugna. Quando eravate piccoli non rifiutava nulla, perché non avevate convinzioni preesistenti che contraddicessero ciò che percepiva. Ha semplicemente accettato che tutte le informazioni ricevute durante la prima infanzia fossero vere. Probabilmente potete capire perché questo diventa un problema più avanti nella vita. Ogni volta che qualcuno vi ha dato dello stupido, dell'inutile, del lento, del pigro o peggio, la vostra mente subconscia ha semplicemente immagazzinato l'informazione come riferimento. Potreste anche aver ricevuto messaggi sul vostro potenziale nella vita o sui limiti che dovrete affrontare in base alle vostre capacità fisiche, al colore della pelle, al sesso o allo status economico. All'età di 7 o 8 anni avevate già una solida base di convinzioni, basata su tutta la programmazione delle persone della vostra vita, dei programmi televisivi che guardavate e di altre influenze ambientali. Che effetto ha su di voi questa vecchia programmazione? Ora che siete adulti, potreste pensare di poter semplicemente scartare i messaggi offensivi o falsi che avete assorbito nei primi anni di vita, ma non è così semplice. Ricordate che tutte queste informazioni sono immagazzinate al di sotto del vostro livello di consapevolezza. L'unico momento in cui ne diventate consapevoli è quando limitano i vostri progressi nel creare una vita equilibrata, di successo e produttiva. Avete mai cercato di raggiungere un obiettivo e avete continuato a sabotarvi a ogni passo? È una follia, non è vero? È importante sapere che non siete difettosi o destinati a fallire, qualunque cosa facciate. È più probabile che abbiate dei vecchi messaggi programmati che sono in conflitto con le nuove condizioni che volete creare. Questa è un'ottima notizia perché significa che potete ottenere praticamente qualsiasi cosa se prima vi prendete il tempo di riprogrammare la vostra mente subconscia. La programmazione è ancora in corso. Prima di scoprire come riprogrammare il subconscio, è importante sapere che la programmazione continua ancora oggi. Ad ogni esperienza vissuta, si traggono determinate conclusioni e si memorizzano i messaggi che guideranno le azioni future. Per esempio, che tipo di messaggio pensate che verrebbe memorizzato se veniste rifiutati da una persona a cui tenete? La vostra mente subconscia, quell'abile detective, andrebbe immediatamente a caccia di ricordi e troverebbe altri esempi di rifiuto, come quella volta che il vostro migliore amico vi ha scaricato per uscire con i ragazzi più popolari e trarrebbe la conclusione che siete in qualche modo indegni o non amabili e meritate di essere rifiutati. Ora, la cosa interessante è che se un'esperienza è in conflitto con una convinzione già consolidata, la vostra mente subconscia la rifiuterà o la riformulerà in modo da farla coincidere con la vostra visione della realtà. Ecco un esempio, supponiamo che abbiate la convinzione di essere poco attraenti e che una persona attraente esprima il suo interesse a conoscervi meglio. Molto probabilmente la prima cosa che penserete è che si tratta di uno scherzo o di un trucco crudele. Non crederete che questa persona possa trovarvi attraente perché già credete di esserlo. Sotto la superficie della vostra consapevolezza, il vostro subconscio sta urlando, non è possibile. Questa persona è troppo attraente per essere interessata a me, c'è qualcosa che non va. Allora rifiutate quella persona prima che possa rifiutarvi, oppure fate qualcosa per sabotare quella che avrebbe potuto essere una relazione fantastica. La stessa cosa accade quando si lotta per raggiungere i propri obiettivi. Alla fine iniziate a credere di non essere in grado di raggiungere il successo, quindi vi aspettate di fallire e finite per farlo ancora e ancora. Probabilmente potete immaginare molte altre situazioni in cui la vostra mente subconscia vi limita, ma riprogrammarla è semplice se sapete come farlo. Come riprogrammare la mente subconscia Esistono molti modi diversi per sovrascrivere i messaggi limitanti o dannosi memorizzati nella vostra mente subconscia. Potreste lavorare contemporaneamente con tutte queste strategie, ma sarà molto più efficace scegliere solo uno o due metodi per iniziare. È meglio dedicare loro tutta l'attenzione possibile, piuttosto che saltare e diluire gli sforzi. Ricordate che potete sempre incorporare altre tecniche con il tempo. Influenze ambientali Avete mai considerato l'effetto dell'ambiente sulla vostra mente subconscia? Ricordate che la vostra mente subconscia assorbe costantemente informazioni, trae conclusioni e forma convinzioni sulla base di tali informazioni. Se il vostro ambiente quotidiano è pieno di negatività e conflitti, immaginate che tipo di messaggi vengono assorbiti dalla vostra mente. La prima azione da compiere è limitare rigorosamente la negatività a cui siete esposti da questo momento in poi. Evitate di guardare i telegiornali, a meno che non sia assolutamente necessario, e di passare troppo tempo con persone tossiche. Cercate invece informazioni positive da leggere e guardare e passate la maggior parte del tempo con persone positive e di successo. Con il tempo vi accorgerete che la vostra mente assorbe messaggi più incoraggianti, che modificheranno il modo in cui vedete voi stessi e il vostro potenziale. Visualizzazione La mente subconscia risponde bene alle immagini. La visualizzazione è un ottimo modo per programmare la vostra mente con immagini positive e potenzianti. Provate a dedicare 10 a 15 minuti al giorno alla visualizzazione di scene positive che riguardano voi e le vostre esperienze di vita. Ecco alcune cose che potreste voler visualizzare. Se lo fate con costanza, finirete per ridisegnare le immagini negative immagazzinate dalle vostre esperienze passate, dalle paure, dalle preoccupazioni e dai dubbi. Per aumentare ulteriormente il potere della visualizzazione, assicuratevi di emettere emozioni forti e positive mentre immaginate queste cose meravigliose nella vostra mente. Lasciate che sentimenti di amore, gioia, gratitudine e pace fluiscano attraverso di voi come se steste davvero vivendo queste esperienze. La vostra mente subconscia assorbirà i messaggi come se fossero reali. Questa è la vera bellezza della visualizzazione, il potere di ignorare i messaggi limitanti e di concentrarsi su immagini piacevoli che vengono assorbite dal subconscio per essere riprodotte in seguito. Affermazioni Le affermazioni sono un altro modo efficace per installare messaggi positivi nel subconscio. Funzionano meglio se si seguono alcune semplici regole. Formulare le affermazioni in modo positivo, al presente Dite sono fiducioso e ho successo piuttosto che sarò fiducioso e avrò successo, perché concentrarsi su una condizione futura non è compatibile con il vostro subconscio, che conosce solo questo momento. Inoltre, utilizzate affermazioni positive Dire non sono un fallito viene calcolato come sono un fallito, poiché il subconscio non è in grado di elaborare le affermazioni negative. Richiamate i sentimenti corrispondenti Dire sono ricco mentre ci si sente poveri non fa altro che inviare messaggi contraddittori al subconscio. Qualunque siano le parole che state pronunciando in quel momento, sforzatevi di provare le emozioni corrispondenti, perché il vostro subconscio sarà più propenso a crederci. Potreste aggiungere, sono in procinto di diventare ricco, non siete ancora arrivati a questo punto ma avete iniziato il processo ed è credibile. Ripetete, ripetete, ripetete. Le affermazioni non funzionano se vengono pronunciate solo una o due volte. Per ottenere i migliori risultati, recitatele più volte nel corso della giornata. L'aspetto positivo è che potete dire le affermazioni a voi stessi, in modo da inserirle perfettamente nella vostra routine. Brain Entrainment Battiti Binaurali Un altro metodo popolare è l'uso di registrazioni audio che alterano deliberatamente la frequenza delle onde cerebrali. Può sembrare un'idea uscita da un film di fantascienza, ma i resoconti delle persone che hanno provato questi programmi audio sono estremamente positivi. Le onde cerebrali hanno una frequenza specifica a seconda di ciò che si sta facendo in un determinato momento. I battiti binaurali si ottengono quando due toni vengono riprodotti a frequenze diverse, innescando le onde cerebrali a seguire uno schema diverso. Ad esempio, se si vuole passare dallo stato di stress a quello di relax, si può ascoltare un audio che attiva lo stato alfa. Questi programmi audio possono aiutarvi a riprogrammare la vostra mente subconscia, creando un forum più ricettivo per l'installazione di messaggi positivi. Le ricerche hanno dimostrato che la mente subconscia è più ricettiva alle nuove informazioni quando è molto rilassata, come negli stati alfa o teta. L'uso di programmi audio di Brain Entraiment insieme ad affermazioni o visualizzazioni può essere una combinazione potente, perché la mente subconscia abbassa le sue difese e può assorbire facilmente qualsiasi messaggio si voglia programmare. Basta rilassarsi e concentrarsi su immagini positive. IPNOSI L'ipnosi può essere efficace più o meno come i programmi di Brain Entraiment, ma senza l'uso di frequenze che alterano le onde cerebrali. Al contrario, l'ipnotista vi conduce gradualmente in uno stato più rilassato e ricettivo e trasmette messaggi positivi e potenzianti alla vostra mente subconscia. L'autoipnosi è un'altra opzione molto diffusa, è sufficiente utilizzare programmi audio pre-registrati invece di una sessione di ipnosi dal vivo. È anche possibile registrare i propri CD di autoipnosi, in modo da sentire la propria voce che recita affermazioni positive mentre si è in uno stato di rilassamento. Come sapere se i vostri sforzi di riprogrammazione stanno funzionando? Uno degli aspetti più impegnativi della riprogrammazione della vostra mente subconscia è che non potete sbirciare all'interno e vedere cosa c'è ancora da cambiare. Dovrete invece sviluppare un forte senso di autoconsapevolezza, in modo da poter individuare i comportamenti autosabotanti prima che vi sfugano di mano. Tuttavia, ci sono alcuni chiari segni di progresso che potete riconoscere. Iniziate a sentirvi più forti, più sicuri e più felici. Siete più disposti a correre rischi e ad affrontare le sfide. I vostri sogni e obiettivi non sembrano più oprimenti, ma solo eccitanti. Sentite un senso di pace interiore più profondo, come se i conflitti interiori si stessero dissolvendo. Attirate più opportunità di espansione e crescita in ogni ambito della vostra vita. In breve, saprete quando i cambiamenti stanno avvenendo nella vostra mente subconscia perché noterete un cambiamento nel vostro essere interiore ed esteriore. La prova è di solito innegabile. Rinforzo coerente e persistente È importante dare a questo processo di riprogrammazione il tempo di funzionare. Non aspettatevi di vedere cambiamenti immediati, la a volte può succedere, ma più spesso ci vuole tempo. Siate molto coerenti e persistenti con i metodi che scegliete per installare messaggi più positivi nella vostra mente subconscia. Non appena queste trasformazioni diventeranno evidenti, vi sentirete motivati a continuare ad andare avanti, ma fino a quando ciò non accadrà, non mollate e sappiate che questi cambiamenti durano tutta la vita, sono potenti e vale la pena aspettarli.